Senza dubbio spettacolare, il fascio di luce Ramses II, installato dal comune di Venezia per il centenario di Porto Marghera, faraonico nel nome come nei fatti, non manca di suscitare le polemiche ben al di là dei confini veneziani. Con i suoi 12.000 metri d'altezza, l'enorme faro, visibile da mezzo Veneto, sta suscitando la rivolta, oltre che dei mestrini, anche degli astrofili della marca. Nella vittoriese, Silvano Toquette, presidente della locale Associazione Astrofili, ha avviato una petizione che in pochi giorni ha già raccolto migliaia di sottoscrizioni. Io personalmente ho lanciato una raccolta di firme, una campagna di raccolta firme, che è arrivata ad oltre 6.000, quasi 7.000 firme questa mattina, in soltanto in quattro giorni. L'obiettivo è di mandare la petizione al sindaco Brugnare e di far spegnere il faro. Un'installazione, quella dell'enorme faro, che secondo gli astrofili è sbagliata sotto tutti i punti di vista ambientale ed economico, per l'inquinamento luminoso e non solo, lo spreco di energia, ma soprattutto sostengono gli astrofili in violazione della legge regionale 17 del 2009, che vieta fasci di luce di questo tipo. Al di là degli astrofili, che forse non è il primo dei problemi, ci rendiamo conto, al di là di questo, aver fatto e aver promosso una cosa palesemente illegale, crediamo che questa sia la cosa più grave. Ancora più pesante la posizione dell'Associazione Veneto Stellato, che ha inviato due esposti, uno alla Procura di Venezia, l'altro alla Corte dei Conti.